Avvincente spettacolare, organizzato con estrema cura il torneo Lazzaroni Cup, ITF maschile da 15.000 dollari in corso di svolgimento nell'impianto di piano vincolato a Chieti entra nel vivo. Oggi gli ottavi di finale. Gli abruzzesi Giorgio Ricca e Andrea Picchione affronteranno rispettivamente il 24enne Riccardo Balzerani, testa di serie numero 2, vittorioso sul ceco Safranek con un doppio 6-4 e il calabrese Giannicola Misasi. Negli altri incontri vittorie di Roncalli per 7-6-6-2 su Gandolfi, dello sloveno Lipovsek su Stefano Napolitano, quest'ultimo costretto a ritiro sul 3-2 a suo favore dopo appena 26 minuti. Match a cui si riferiscono le immagini girate dal nostro Diego Martelli. Nell'ordine ascoltiamo il direttore del torneo Luca Del Federico, l'ex tennista ora allenatore Diego Nargiso e Ennio Marianetti, presidente Tennis Chieti. Qui a Chieti abbiamo il giocatore russo Ceperev che ha fatto molto bene qualche non più di una settimana fa nel Challenger 125 punti di Perugia, giocatore che si allena nella stessa accademia di Alcaraz, quindi insomma un giocatore si presenta con grandi credenziali, tanti giovani, tante speranze del tennis italiano, Giorgio Tabacco, tanti ragazzi. C'è Diego Nargiso che accompagna due ragazzi, Gianmarco Ferrari e Federico Arnaboldi. Diego lo conoscono tutti, vincitore Wimbledon Junior, best ranking 67 ATP e quindi è un piacere avere Diego qui ospite. Sì, è proprio una delle partenze che ho avuto tanti anni fa, ormai praticamente parliamo del secolo scorso addirittura, per cui effettivamente è una cosa molto lontana, ormai con i capelli e la barba bianca dobbiamo, diciamo ce li ricordiamo, però era un'altra vita, chiaramente è stata una grandissima soddisfazione ed è stata quella mia prima vittoria importante che mi ha portato alla ribalta, mi ha portato un po' a farmi conoscere nel circuito maggiore, da lì poi la mia carriera che ha fatto secondo me delle belle cose, soprattutto in nazionale e per l'Italia e ne vado molto fiero perché è stata una scelta importante che ho fatto e che credo mi abbia ripagato tantissimo di tutti i sacrifici. Ci miglioriamo anno per anno, siamo partiti nove anni fa con un Open Lazzaroni che grazie alla collaborazione con Lazzaroni portiamo avanti da diversi anni. Quest'anno abbiamo fatto un bel passo, il primo torneo internazionale, a Chiedi non si vedeva da un bel po' di tempo un torneo internazionale e siamo veramente felicissimi di questo evento. Io francamente vivendo questo circolo e respirando aria di tennis, è importante vedere tutti questi bravi ragazzi, bravi giocatori che stanno animando i nostri campi, mi riempie di gioia e di orgoglio, quindi speriamo bene e con la promessa di crescere e di migliorarci sempre di più.